Abbiamo qua una vecchia conoscenza, Cidera, Ezza, intanto come stai? Tutto bene, grazie. Ecco, giornata tranquilla, ma soprattutto abbiamo anche un nuovo arrivo, Alice, Alice come va? Molto bene, grazie. Molto bene, perché questo clima tranquillo, questo inizio di intervista molto molto leggero? Perché? Perché oggi è un'intervista particolare, ok? Non vi chiedo, avete fatto 12.000 interviste fino adesso, vi han chiesto la stagione, l'avversario da battere, come arrivate? Basta, so già che voi avete la risposta prefabbricata, proviamo un po' a variare, quindi, prime settimane di ritiro, vi state conoscendo, no? È un gruppo nuovo, magari qualcuno l'avete affrontato ad avversario, provete ancora un po' a conoscere, parto da te. Non ti parlo di Nicole, perché già la conoscevi, ma delle altre un po' chi è che ti ha sorpreso in positivo, no? Che magari da avversario, da solo conosciute i nomi o di fama, ti sembrava una persona e poi adesso che la stai conoscendo meglio, in realtà dici, cavolo, mi ha sorpreso in positivo. E se devo essere sincera? Non dirmi tutte, non dirmi tutte. Non dirmi tutte, ma perché, per dirti, anche lei che comunque l'ho incontrata un paio di volte, anche di più, in realtà, durante il campionato, c'è anche post partita, durante la partita quel sorriso, anche tipo sotto rete, no? La pacca c'è sempre stata qui, non c'è nessuna che ti dico, non so, mi ha sorpreso in modo positivo. Sono tutte, sia da avversario che da compagna, bravi ragazzi, mi sono sembrate, mi sembrano anche adesso. Tu invece, Alice, che idea ti sei fatta? Ma allora, ho giocato quasi contro tutte, se non una parte tre o quattro contro, quindi diciamo che generalmente tendo a non fare troppi giudizi, pregiudizi, perché so che poi conoscendo le persone, insomma, non sempre sono come magari uno ci si aspetta o come se le immaginate, no? Però in questo caso sto andando con molta calma e il ritiro ci sta dando modo di conoscere sempre ogni giorno di più, ognuna di noi. E questa modalità mi sta piacendo tanto, perché con il club non ho mai avuto la possibilità di, insomma, iniziare così. Quindi sono curiosa, sono una persona molto curiosa, quindi piano piano sto cercando di fare magari delle domande, o comunque passare un po' di tempo con tutte. E quindi in questo momento sono contenta e speriamo che le impressioni che mi sono fatte finora vengano confermate poi nelle prossime settimane, quindi molto positive. Impressioni di lavoro che vi state facendo anche su Coach Barbieri, no? Entrambe venite dalla 2, no? Adesso siete al primo campionato di A1, sono cambiati un po' gli allenamenti, cioè state notando questo salto di qualità. Parlo soprattutto con te, no? Che c'era già l'anno scorso che conoscevi il metodo di lavoro del coach. Allora, beh, sono ancora inizio di preparazione, quindi in realtà non è neanche cambiato troppo. Però penso che sicuramente i ritmi saranno diversi, perché comunque la palla è più veloce, i giochi sono molto più veloci, quindi sicuramente cambieranno così rispetto all'anno scorso, ma come è giusto che sia, perché comunque cercheremo di raffrontare e di prepararci al meglio per trovarci pronte per questo inizio di campionato, che comunque sarà tosto. Inizio di campionato che parte col botto, esatto, sfrutto il tuo assist, ok, cambiamo sport, passiamo al calcio, e passo ad Alice perché si parte a Roma, si arriva con Egliano, non so se voi vi eravate segnati magari nel calendario un avversario dice quando arriva con la partita non vedo l'ora di giocarci, no? Non so, magari qualcuno se lo segna e dice guarda mi piacerebbe proprio giocare contro loro, tu ce l'avevi, te l'hai risegnato. Beh sì, direi che la prima è l'esempio perché è la mia ex squadra, quindi iniziamo subito bene, poi la seconda partita sarà di nuovo molto stimolante perché è contro una formazione importante, quindi sarà un inizio bello scoppiettante, come dire, e niente, non vediamo l'ora di iniziare. Ecco, di solito non si fa mai griglie, però io le faccio perché è la parte anche più divertente, all'inizio stagione poi per vedere chi ha zecchi i pronostici e di quanto, no? Non vi dico di fare una classifica totale, però una griglia di 14 squadre, voi dove vi posizionate in questo momento? Dove vi sentite magari che potete partire? Domanda difficile, molto tossica. Potete rispondere assieme, pensandoci assieme, vi do questo aiuto. Allora, io ti dico, vai tu. Non ci metterei in classifica, però ecco, non so perché, ma sono fiduciosa perché non vorrei solamente dare salvezza, se si può fare di più, si può fare di più, ecco, quindi vediamo, sicuramente magari... Non so, no, dai, basta, perché poi vado un po' troppo. Non sbilanciamoci, però siamo in linea su questa cosa, nel senso che non ci piace darci limiti, ecco, quindi l'obiettivo minimo è sicuramente la salvezza, però con l'idea di fare il meglio che possiamo, quindi sarebbe bello vederci un po' più su, ecco, sì, diverse posizioni più su, non dico altro. Diplomatica ma non troppo, bravi, mi siete piaciute, ero già pronto a punzecchiare, invece è bravissimo. No, 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 è fai. In conclusione, poi vi lascio andare alle narche, c'è il coach che mi sta facendo così con l'orologio, e sbottoniamoci un po', cerchiamo un po' di andare, descrivetvi, no? Tu la stai conoscendo, descrivimi Alice, poi tu mi descriverei la C. Ok, allora, solare, sicuramente, e secondo me è anche abbastanza precisina in alcune cose, e non ansiosa, però tipo sempre quelle in anticipo alle elementi, alle partite, a questo, a quest'altro. Ti ha sgammato subito. E per me c'è anche tipo i tuoi spazi durante, c'è in spogliatoio. Mi ha sgamato. No, dai, è vero, è vero, brava. Sul pezzo. Cidi invece tranquilla, ma grintosa, e presente. Ti vedo molto sul pezzo, diciamo. E poi energica, perché, vabbè, ascolti la mia stessa musica, quindi questo è già un presagio. Che si può rivelare il genere, i cantanti preferiti? Beh, reggaeton, diciamo. Sì, R&B, musica energica comunque, diciamo. Poi adesso, piano piano, sto cercando di andare a fondo su Cidi, però è una bella persona, secondo me. Quindi chiudetemi con un saluto simpatico, per chiudere al meglio questa intervista. Come salutereste chi ci sta seguendo? Se non vi vedo ai nostri partite. E se non vi vedo ai nostri partite.